Ciao a tutti, oggi prepareremo il succo di frutta all'albicocca. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono albicocca e denocciolate mature, zucchero, il succo di mezzo limone e acqua. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, lo zucchero e lo facciamo cuocere per 10 minuti, 100 gradi, velocità 3. Aggiungiamo le albicocche, il succo di limone e continuiamo a cuocere per 5 minuti, 100 gradi, velocità 4. Adesso frulleremo per un minuto da velocità 6 a velocità 8. e frulleremo ancora per un minuto a velocità 9. lasciamo raffreddare completamente prima di servire. Succo di frutta all'albicocca. Grazie e alla prossima ricetta! Succo di frutta all'albicocca. Grazie a tutti! Succo di frutta all'albicocca. Grazie a tutti!